Salve a tutti amici, sono Mr.Delleric, ben ritrovati qui sul mio canale e ben ritrovati in un nuovo tutorial di Foundry Virtual Tabletop. Siamo arrivati al tutorial, ragazzi, che riguarda la scheda dei personaggi. Scheda dei personaggi, poi vedremo eventualmente, se riusciamo, anche la scheda dei personaggi non giocanti o dei mostri, che hanno delle piccolissime differenze, ma piccole, quindi vedremo eventualmente quali possono essere queste differenze. Allora, iniziamo subito, perché c'è molta carne al fuoco. Allora, noi abbiamo aperto il nostro bel personaggio, Luxus, e come possiamo vedere qua abbiamo la prima schermata che è quella degli attributi. Qui abbiamo le informazioni principali del nostro personaggio, con la razza, il background, l'allineamento e la sua proficiency. Chiaramente siamo di livello 0 addirittura, per cui è un più 1, ovviamente. Al primo livello avremo il più 2. C'è addirittura la barra dei punti esperienza. Comunque sia, ovviamente qui dovremmo andare a inserire i nostri punteggi, e come potremo vedere, nel momento stesso in cui noi inseriamo un punteggio, in automatico vengono messi i bonus. Un bonus è, da una parte, il lato sinistro è il modificatore, nel lato destro è il modificatore al tiro salvezza. Se noi mettiamo la spunta, vuol dire che siamo competenti in questo particolare tiro salvezza. Ok? Quindi è abbastanza intuitivo anche il come funzioni il tutto. Ecco, ci tengo a ricordare che Foundry ha moltissime mod per quanto riguardano le schede. Ci tengo a ricordare anche che probabilmente alla fine di questi tutorial, probabilmente farò un altro paio di video, dove uno farò vedere che cosa può essere una mia campagna, per esempio, con diverse mod. Perché ho quasi una settantina di mod io che utilizzo, più o meno, perché poi molte mod, alcune possono, le aggiungo perché mi piacciono particolarmente, altre ne posso togliere perché magari sono desuete e quindi non si utilizzano più o non vengono più aggiornate, e quindi le vado ad eliminare, però generalmente diciamo intorno alla settantina. Vi faccio vedere che cosa può diventare, che cosa si può fare con quella quantità di mod. Ecco, non farò chiaramente un tutorial che riguarda ogni singola mod, perché le mod sono assolutamente soggettive, cioè bisogna guardarsele e se si interessa, e se interessati a quella particolare mod, allora scaricarsela e utilizzarla. Comunque sia, ecco, qua si va quindi a modificare i punteggi, è un automatico, vedrete che i modificatori vengono messi. Lo stesso vale per le abilità. Per quanto riguarda le abilità, anche qui va messa la proficiency, praticamente la spunta se siete competenti in quell'abilità o meno, e se fate un primo clic viene fuori questa spunta qui, che vuol dire siete competenti. Se cliccate di nuovo vedete che è half proficiency, perché alcune classi, razze, background e quant'altro vi danno magari mezza competente, metà della vostra proficiency praticamente ha una determinata abilità, oppure con la doppia spunta l'esperto, siete esperti, quindi avete il doppio della vostra proficiency. Qui abbiamo parlato delle abilità, adesso andiamo a parlare, ecco, vabbè, i punti ferita, qui abbiamo addirittura la possibilità di inserire un avatar per il proprio personaggio, e chiaramente dovrete andare nei vostri token, dovreste avere, non lo so, eccono qua, io qua ho un avatar per esempio di questo gnomo, ranger, e potreste inserire questo così come inserire qualunque altra immagine a voi cara, ok? Selezionarla e facciamo finta per esempio select file, eccolo qua. Abbiamo l'avatar che poi si va a vedere qui. Per quanto riguarda invece il token, lo dovrete fare nel prototype token, quindi chiamiamola nel blueprint del vostro token, ed è qui che voi dovete lavorare creando un vostro token, selezionando quello, dicendo ok, update token, adesso andiamo a vedere, cancellando questo, come viene fuori, eccolo qua. Vedete, non ho dovuto fare altro che prendere e trascinare il token, eccolo qui, l'immagine del token funziona. Allora, ritornando a noi, abbiamo detto quindi il nome, la razza, il background, allineamento, eccetera, eccetera, abbiamo i punti ferita, punti ferita, che per esempio non lo so, 20 su 20, se veniamo feriti la cosa bella è che anche la nostra miniatura risentirà di questi cambiamenti, se noi per esempio mettiamo la barra dei punti ferita, sì, che tra l'altro mi sono dimenticato di rendere visibile, perché però non si vede, qual è il problema? Always, ok, update token, ecco, no, un cavolo. Allora, facciamo così, scusatemi, perché io ho fatto sul prototype token probabilmente, no, perché bisogna farlo sul prototype token. Allora, eccolo qua, update, proviamo a vedere adesso, eccola qua, ecco la nostra barra dei punti vita, vedete che è la metà praticamente, quindi qua si va a modificare, si fanno a modificare i punti vita e si può ripercuotere, chiaramente, vedete, sulla sua miniatura. Abbiamo la classe armatura, abbiamo il movimento che può essere modificato anche in metri, per esempio, no, vabbè, ci vuole la mod, ci vuole la mod in italiano per far funzionare questa cosa qua, però comunque va bene, 30 piedi e come potete vedere c'è anche quello di volo, quello di nuoto, quello di scalata, barro, non mi ricordo onestamente cosa cavolo voglia dire, ma comunque va bene. L'iniziativa che chiaramente si modifica in base alla vostra destrezza. E qui abbiamo risorsa 1, risorsa 2, risorsa 3, che cosa sono praticamente questi elementi? Qui noi possiamo aggiungere dei valori come, per esempio, a me viene in mente i punti stregoneria, dello stregone, ad esempio. Facciamo finta che io abbia 5 punti stregoneria su 5 punti stregoneria, i punti stregoneria vengono recuperati, non mi ricordo, mi pare, su un riposo lungo, e quindi io devo long rest, devo spuntare questo, oppure questo chiaramente su short rest, quindi il riposo breve. Ogni qualvolta il personaggio farà, quindi, un riposo lungo, recupererà tutti i punti stregoneria. Ma le risorse qua, che io posso inserire qui, possono essere anche gli utilizzi di una bacchetta, per esempio, gli utilizzi di una qualunque cosa, fare trainclusa con le frecce, voglio dire, che abbia un massimo e un minimo. Però, ecco, volendo, posso fare anche le abilità che possono essere recuperate con un riposo breve o con un riposo lungo. Ok? A me sono venuti in mente i punti stregoneria, perché la cosa simpatica è che, se io vado nel prototype token, e vado sulle risorse, io posso mettere... Eccola qua, in realtà l'ho trovata, era praticamente all'inizio, risorsa primaria. Andiamo a fare l'update del token e a trascinarlo qui. Ecco che è 5 di 5, punti stregoneria, che vengono visti in blu, tra l'altro, per cui molto simpatico. Se io vado a consumare punti stregoneria, eccolo che vanno a diminuire. Per cui, ecco qua. Quindi potete mettere fino a tre risorse. Qui c'è addirittura i tiri salvezza contro morte, quindi mettete il punteggio di quelli con successo, con quelli con fallimento. I punti, come si può dire, affaticamento. L'ispirazione, se c'è o non c'è. La taglia del vostro personaggio. I sensi, quindi se è oscurovisione, eccetera. I linguaggi, l'immunità ai danni, la resistenza ai danni, le eventuali vulnerabilità ai danni, le condizioni, o meglio le immunità, in questo caso le condizioni. le competenze nelle armi, nelle armature, negli strumenti, e se ci sono tratti speciali, quali per esempio, come vedete c'è la fortuna degli Elfling, l'accuratezza degli Elf, e via dicendo. Ci sono tutte le varie cose che possono far parte di una razza, di una classe, praticamente, inclusi anche particolari bonus che voi potete mettere in determinate cose, per esempio nell'attacco a distanza, piuttosto che qui ci sono eventuali bonus che si possono aggiungere. Andando nel pannello successivo, andiamo in quello dell'inventario. Ecco, qua è molto interessante il discorso, perché si possono inserire o creare oggetti all'interno del nostro inventario. Quindi ci sono due modi per inserire nella nostra scheda oggetti. Il primo è quello di crearli, cliccando semplicemente Add su una categoria appropriata, quella delle armi, quelle degli equipaggiamenti come le armature, gli scudi, i vestiti, eccetera, eccetera, i consumabili, quali potrebbero essere le frecce, le torce, le candele, le razioni, non lo so, gli strumenti, gli arnesi, i contenitori, quindi gli zaini, le borse, e quant'altro, e eventuale loot. Quindi cliccando un più, io vado a creare un oggetto, ok? Oppure, metodo più semplice, andare nel pannello qua in alto, sulla destra, nel compendium pack, andare su item SRD, cioè praticamente gli oggetti che non sono coperti da copyright. Ecco, per farla breve, fondamentalmente è così. Quindi non troverete tutti gli oggetti del manuale, così come anche negli incantesimi SRD non troverete tutti quanti gli incantesimi del manuale, perché alcuni incantesimi sono coperti da una sorta di copyright, per cui quel particolare incantesimo ve lo dovrete creare manualmente. Però qui, come vedete, dalla A alla Z ci sono tutti gli oggetti semplici e magici, per cui trovate tutto. Allora, facciamo una prova, per esempio, facendo un qualche cosa tipo una longsword, ok? Una spada lunga. Io qua, se ci clicco sopra, mi apre la spada lunga e vedo la sua descrizione, vedo il fatto che è versatile, quindi che la posso utilizzare a una mano o anche a due mani, quindi vedo le sue caratteristiche. La schermata dei dettagli è una schermata che io così non posso modificare, perché ho aperto un oggetto all'interno di un compendio e all'interno del compendio io non posso modificare gli oggetti, se non sbloccandoli, chiaramente, ma lo sconsiglio vivamente, per i principianti in particolar modo. Per poter modificare l'oggetto lo devo prima mettere nella mia scheda. Oppure c'è anche il pannello qui in alto degli oggetti dove io posso inserire tutti gli oggetti, tutti gli elementi che voglio e poi modificarli. Allora, quindi per modificare gli oggetti vi faccio vedere subito come si può fare. Qui posso vedere quindi i dettagli dell'arma, eccetera. Andiamo a prendere l'arma da qui, cliccando e trascinandola all'interno della nostra scheda e io vado ad aggiungere una spada lunga alla nostra scheda. Oppure, cliccando il tasto destro sull'arma o anche aprendo l'arma, cliccando su Import, io l'arma la vado a mettere all'interno del pannello degli oggetti. In questi due modi io posso poi andare a modificare a mio piacimento l'arma. Se io non voglio metterla nella scheda del personaggio, perché chiaramente il personaggio potrebbe, il giocatore potrebbe vederla, allora me la importo nel pannello e qui faccio tutte le modifiche che devo fare all'oggetto. Posso crearne di nuovi, posso fare quello che mi pare e piace con oggetti, con incantesimi, con tutto quello che trovate all'interno dei compendi, ma che anche semplicemente volete creare, perché potete creare un oggetto, un incantesimo o quello che vi pare. Allora, qua possiamo per il momento cancellarlo perché funzionerà nello stesso modo, ok? Va bene. Andiamo a aprire il nostro oggetto per poterlo modificare. Se voi imparate come modificare l'oggetto, avete imparato tutto di Foundry Virtual Tabletop, praticamente. Allora, qui abbiamo la possibilità di modificare chiaramente il nome dell'oggetto, la sua descrizione, cliccando qui e scrivete e modificate quello che vi pare. La quantità, il peso, il prezzo dell'oggetto. Dopodiché si cambia schermata e si va nei dettagli. Questa è la schermata forse più importante. Questa schermata cambia in base alla tipologia di oggetto. In questo caso è un'arma, ok? Ed è sotto la categoria armi. Però se io volessi creare un oggetto come un'armatura, io dovrei selezionare un equipaggiamento e fare add qui. Per esempio, oppure, chiaramente, come sempre, selezionare l'armatura da qua. Per esempio, ecco qua, l'armatura di pelle. Scusa che ti sposto. Eccolo qua. Vedete che viene messo, l'armatura di pelle viene messa sotto gli equipaggiamenti. Ok? Quindi mi raccomando, è molto importante che quando voi create un oggetto da zero selezionate la categoria giusta, perché altrimenti vi mancheranno determinate parametri all'interno della scheda dei dettagli. Ok? Allora, essendo questa un'arma, è messa sotto la categoria armi, ci chiede che tipo di arma è. È un'arma da guerra? Ci sono le armi semplici? Vedi che possiamo modificarla, possiamo modificarla come ci pare. Un'arma naturale, improvvisata, un'arma d'assedio, eccetera. Ogni qualvolta noi inseriamo un'arma in una scheda, dobbiamo anche selezionare se siamo competenti o meno in quell'arma, perché altrimenti non ci viene messo il bonus di competenza. Dobbiamo dirgli se è equipaggiato o meno, però attenzione, vedete qua cambia non solo la scritta equipaggiata e non equipaggiata, ma anche questo simboletto qua. vedete che cambia? Posso modificare anche da qua il discorso che sia equipaggiata o meno, perché chiaramente un'armatura la posso togliere e mettere, quindi il fatto di dire che è equipaggiata o meno è importante. Ok? Allora, ok, è equipaggiata, che tipo di arma è? Ad amantina, con le munizioni, usa finesse, quindi se può, se utilizza la destrezza o la forza, se è pesante, se è leggera, in questo caso è versatile la spada lunga, molto bene, vedete, basta leggere, basta leggere, questa è, è vero, la schermata più importante, ma è anche piuttosto intuitiva. Adesso, come viene utilizzata l'arma? Come l'attivo l'arma? Quali sono le regole di questa arma? Innanzitutto, il suo costo di attivazione. Mi serve un'azione per usare la spada lunga, se devo fare un attacco con una spada lunga, mi serve un'azione e qui è selezionato. Però vedete che volendo creare un altro tipo di oggetto o addirittura un incantesimo, ci sono le azioni bonus, ci sono giorni, ore, quanti giorni, quanti ore, quanti minuti, una reazione, un'azione speciale, per esempio. Se ci sono particolari condizioni di attivazione, qua lo posso scrivere e segnare, qual è l'obiettivo in questo caso sarebbe più utile per un incantesimo, chiaramente, questo spazio, perché vedete qua posso selezionare se stessi, ha un tocco, più any creatures, quindi più creature e via dicendo. Qua seleziono qual è l'obiettivo del... in questo caso dovrebbe essere un incantesimo per il target. Qual è il range dell'arma? Essendo questa un'arma in corpo a corpo 5 feet, ok? Se fosse un'arma a distanza io qua devo mettere il minimo, il massimo e in piedi, ok? La durata, in questo caso sempre se è un incantesimo, in ore, in mese, in minuti, in quello che volete, in turni, se ha usi limitati, magari un oggetto magico ha determinate cariche, no? Fino a che non faccio un riposo lungo, fosse un oggetto magico, perché no? Mettiamo che questa spada fosse un oggetto magico, posso usare alcune cariche, ok? Queste sono tipo le cariche. Se consuma risorse, se questo, invece, se una spada lunga fosse un arco, lui mi utilizzerebbe delle munizioni e dovrei selezionare all'interno del mio inventario, adesso io ho solo la spada lunga, le eventuali munizioni che io ho, ok? Facciamo finta che ci siano delle frecce, seleziono le frecce e gli dico che me ne consuma una. Ogni volta che io utilizzo l'arco una freccia in automatico viene scalata all'interno della mia faretra. Questa cosa è fighissima, ok? E qui possiamo togliere il tutto perché non ci serve. Ora, come funziona l'attacco di questa arma? Innanzitutto è un attacco ravvicinato corpo a corpo il modificatore dell'abilità di default quindi è fondamentalmente la forza se fosse un'arma magica qui dovrei mettere un bonus di più uno per esempio se fosse un'arma più uno quindi un bonus all'attacco di più uno qui dovrei mettere invece la formula del danno la spada lunga fa un dado da otto più la macro esatta è chiocciola modificatore che è il modificatore di forza in questo caso fosse un oggetto magico dovrei pure aggiungere più uno ok? Quindi in realtà è abbastanza semplice da capire se so come funziona non è difficile il demange formula il chiocciola mod è l'unica cosa che vi dovete ricordare a meno che non ci sia e lì basta guardare comunque su internet una formula perché volete utilizzare invece della forza una qualche altra caratteristica allora dovrete scrivere chiocciola qualcos'altro chiocciola des se non mi ricordo male ma adesso vabbè non mi viene in mente dex probabilmente comunque sia che tipo di danno è? quindi se è contundente se è perforante se è tagliente e via dicendo ok? in questo caso tagliente posso addirittura cliccando un più aggiungere un'ulteriore fonte di danno mettiamo caso che questa sia una spada magica necrotica che fa anche danni necrotici quindi io non dovrei fare altro che aggiungere un dado da 6 di danni necrotici perfetto facciamo finta essendo questa versatile il danno versatile che viene eccola qua abbiamo detto la spada lunga è versatile il danno versatile è un dado da 10 più il modificatore di forza è tutto scritto se ci sono altre formule perché magari non lo so un'arma che ha delle condizioni particolari se c'è un tiro salvezza da dover fare su che cosa va fatto il tiro salvezza qual è la classe di difficoltà in questo caso vabbè selezionato spellcasting perché il tiro salvezza in genere viene fatto per gli incantatori per quando si tira un incantesimo ok però posso scegliere chiaramente spellcasting va in automatico a selezionare la classe di difficoltà che è evidenziata se il mio personaggio fosse un incantatore però posso mettere anche flat per mettere un valore mio personale cioè il valore che voglio io ok di 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 difficoltà però per quest'arma non ci interessa il tiro salvezza se nella chat deve comparire un messaggio particolare quando io utilizzo quest'arma questo è il campo adatto una volta fatto questo abbiamo completato l'arma qui c'è addirittura un'altra schermata che è quella degli effetti che però attualmente non è non è utilizzabile cioè sarà bisogno dei futuri aggiornamenti diciamo verrà implementata la possibilità di utilizzare questi parametri che darà degli effetti passivi magari all'arma effetti temporanei e via dicendo come vedete adesso compare questo messaggio per cui ci sarà bisogno di ulteriori update ci sono però dei moduli che permettono di fare dei lavori sulle armi e sul proprio personaggio con degli effetti ok i moduli ci sono già ora la nostra arma è pronta l'andiamo a sperimentare andiamo sulla chat e per utilizzarla abbiamo messo che è equipaggiata abbiamo messo che siamo competenti ok clicchiamo sull'arma dove c'è il dado ci compare questa questa schermatina con la descrizione dell'arma deve essere un attacco e il danno ok c'è addirittura il tastino per poi tirare i dadi del danno oppure tirare i dadi del danno versatile quindi andiamo a vedere se colpiamo tiriamo l'attacco ecco che abbiamo la nostra formula 0 più il nostro modificatore in questo caso di forza più la nostra competenza che in questo caso vabbè è un più 1 perché siamo di livello 0 va bene non importa e più eventuali bonus se ci sono dei bonus situazionali qua si aggiunge un ulteriore dado o un qualche cosa che vi può servire se il tiro è pubblico privato tra il giocatore e il dungeon master se è solo per il dungeon master questo tiro quindi il giocatore non vede il tiro che ha fatto oppure se è un tiro che faccio solo per me stesso che vedo solo io come giocatore pubblico e se è un attacco con vantaggio normale o con svantaggio un attacco normale ecco il mio tiro per colpire un dado da 20 più questo 0 chissà da dove cavolo arriva non me lo ricordo ma va bene non importa il più 2 che è della nostra forza eccolo qua è un più 1 per la nostra proficiency ho fatto un tiro piuttosto interessante perché poi cliccando sul valore viene fuori il tiro che abbiamo fatto esattamente un 19 più 2 21 più 1 22 eccolo qua il nostro risultato perfetto colpito o non colpito bene ho colpito perfetto tiro sui danni anche qua ci chiede sarà un dado da 8 più il modificatore di forza più un dado da 6 perché ho messo che è una spada necrotica la mia più eventuali altri bonus chiede sempre se è pubblico eccetera eccetera se è critico se è normale normale eccolo qua un dado da 8 più 2 della forza più un dado da 6 di danni necrotici vedete che qua viene evidenziato slashing quindi danni taglienti più danni necrotici totale come cazzo è possibile che ho fatto così poco ah vabbè vabbè sono stato abbastanza sfigato va bene non importa ma d'altronde si sa con questi giochi la mia fortuna è questa comunque potete vedere tutti i tiri cliccando semplicemente sul risultato semplicissimo ragazzi se ci pensate è semplicissimo questo vale per ogni fottuto oggetto modifichiamo la nostra armatura vedete i parametri qui sono ancora più bassi cioè non ne servono nemmeno così tanti perché non ho da fare dei tiri con l'armatura è un'arma media non richiede sincronia sintonia è identificato è equipaggiato sono competente classe armatura 12 massimo della destrezza che posso utilizzare 2 richiede un certo valore in forza se fosse un'armatura completa probabilmente si crea svantaggio nei 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 tiri stealth si o no la spunta c'è un qualcosa devo attivare qualche cosa no c'è un'azione che devo fare no però se fosse un oggetto magico che richiede un'azione un'armatura magica che richiede un'azione qui posso modificare e ci sono e compaiono parametri un'azione e compaiono gli stessi parametri dell'arma vi ricordate e quindi qua posso impostare cioè è semplicissimo in realtà è semplicissimo lo stesso vale vedete se dovesse fare qualcuno un tiro salvezza per esempio perché magari è un'armatura che faccio scaturire con un'azione e quindi qua dovrei mettere sempre il costo di attivazione un azione per esempio il fatto che la mia armatura emette un bagliore fortissimo che può accecare i miei nemici e allora qua posso impostarla questa cosa mi serve un'azione per poterla utilizzare questa abilità se c'è una condizione particolare quali sono i target metto la distanza addirittura in cui posso c'è questo tiro salvezza da dover fare un tiro salvezza su che cosa e qua devo selezionare in questo caso potrebbe essere sulla destrezza per ripararsi nove vedete è andato da solo con lo spellcasting è andato da solo con i valori del mio personaggio ecco vedete con i parametri praticamente che Luxus ha per quanto riguarda i tiri salvezza sugli incantesimi noi chiaramente non abbiamo fatto negli attributi un accidenti a un 10 il livello è 0 per cui è chiaro che questi parametri con un valore difficoltà 9 sono alterati però se impostassi la scheda correttamente qua sarebbe assolutamente giusto però posso mettere anche un valore di classe difficoltà come voglio io ok se dovesse essere un tiro salvezza contrapposto addirittura figuratevi c'è anche quella possibilità lì però ecco il mio consiglio ragazzi è però quella di sperimentare di sbatterci un attimino la testa se vi trovate in difficoltà perché in realtà è un discorso di sperimentazione provate fate i vostri tiri tirate ora io utilizzo dei moduli per fare tutta questa cosa perché ogni volta che devo fare un tiro di spada mi compaiono tutti questi tastini che devo cliccare devo fare 40.000 click per fare un tiro forse mi era più veloce e più comodo tirare un dado sulla mia scrivania quello sicuramente fare un calcolo a mente però con dei moduli queste cose qua si riescono a a ovviare e ve lo farò vedere magari in uno degli ultimi video con quale modulo è possibile fare quel tipo di lavoro lì comunque sia questi per quanto riguarda abbiamo detto gli oggetti le features le features non è altro che le abilità di classe e di razza dei vostri personaggi come vedete il livello di classe facciamo una nuova classe oppure possiamo anche semplicemente andare a selezionarla dal sempre dal dai compendi la trasciniamo all'interno per esempio se voglio fare il guerriero eccolo qua di che livello sono uno guardate sono già di un livello di di guerriero di primo livello sono già la proficiency a più due è già stato impostato tutto in automatico quanto veloce è fare un personaggio ragazzi in questo modo quanto veloce è voglio modificare guardate qua ci sono tutte le guardate ragazzi di che cosa stiamo parlando non avete bisogno di un manuale qua c'è scritto tutto aprite il guerriero e qui avete ogni livello che cosa cavolo va a guadagnare e che cosa cavolo è il fighting style cliccatelo andate a guardare non vi serve il manuale per fare questa cosa c'è scritto tutto e soprattutto è già tutto impostato e soprattutto è già tutto impostato è pazzesco è pazzesco per esempio se io volessi l'abilità second wind facciamo che me la importo ok la importo ce l'ho qui la inserisco come abilità attive quindi posso recuperare i punti vita guardate clicchiamo consuma l'utilizzo giornaliero che io posso fare di questa abilità sì o no certo usiamo l'abilità mi curo di clicco c'è tutto guardate c'è la macro già impostata un dado da 10 più il livello del guerriero più eventuali altri bonus ci sono per caso altri bonus situazionali sì o no eccetera deve essere un tiro pubblico eccetera è un cura critico no in questo caso no normale eccolo qua mi curo di 4 punti ferita un dado da 10 più il mio livello di guerriero è già tutto impostato quanto cavolo ritempo risparmiate ragazzi è straordinaria secondo me questa cosa è straordinaria comunque sia quelle sono abilità che trovate vedete ci sono le class la class feature e qui ci sono tutte quante le abilità di classe che sono già impostate sono tutte già impostate ora non mi ricordo più come si chiama dunque 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 perché non sono sicuro che sia qui dentro il second wind però comunque comunque si vabbè si trova all'interno della classe le variabilità però ecco vedete potete modificarle anche voi tutte queste cose però è spaventoso è bellissimo quindi qua voi mettete tutte le vostre caratteristiche di del livello delle abilità attive e passive che possono essere di classe o di razza ok le potete inserire dai compendi perché ci sono anche le abilità di razza ok l'ognomo il mezzelfo vedete ci sono tutte quante l'allineamento la velocità eccetera eccetera cioè non dovete fare altro che prendere e trascinarlo dentro dai caspita è velocissimo fare così non dovete fare sono un elfo lo prendo lo trascino bam fatto basta a posto c'ho già tutto è in inglese però va bene modificatevelo traducete in italiano dai è fattibile è fattibile lo stesso vale per gli incantesimi ragazzi non vi devo insegnare nulla ve lo potete creare da zero l'incantesimo oppure andate nel vostro compendio degli incantesimi aspetta che chiudiamo qua dietro queste cose e dalla A alla Z avete i vari incantesimi benedizione tacchete inserito è preparato se è preparato clicco qui se no non è preparato ok lo posso inserire qui avete vocale somatica materiale e concentrazione c'è segnato già tutto se cliccate tra parentesi allora se clicco sul dado faccio il tiro ed è come se utilizzassi l'incantesimo ok se clicco e questo vale per tutto per anche gli oggetti se clicco sul nome dell'oggetto si apre la descrizione breve con le sue caratteristiche qua in basso che è di primo livello di qual è l'oggetto di cui ho bisogno un'azione eccetera 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 qual è la scuola di incantamento cosa serve un'azione per usare questo incantesimo qual è il target di questo incantesimo tre creature posso modificarlo certo che puoi modificarlo la descrizione tutto i dettagli guardate è già scritto tutto essendo questo un livello un incantesimo di primo livello di che scuola di magia è che componenti servono cosa serve per lanciarlo se è un rituale se non è un rituale qual è il materiale che serve tutto ragazzi poi per il resto vedete spellcasting cosa sai un'azione per lanciarlo i target abbiamo detto tre creature guardate basta prendere un incantesimo vi imparate come è fatto e capite il funzionamento capite il funzionamento l'effetto l'effetto dell'incantesimo è un utility va bene di default l'abilità il modificatore dell'abilità la other formula è un dado da 4 perché aumenta se non vado errato di un dado da 4 come bonus ok i tiri salvezza il tiro per colpire e via dicendo di queste tre creature alleate cioè basta fatto bellissimo lo vogliamo usare tira si mi dice che non ho chiaro perché non ho impostato nulla questo come incantesimo ma chi se ne frega non importa lo lancio lo stesso cast spell no perché perché non ho slot non ho slot incantesimi e va bene mettiamoli eccoli qua modifichiamo scusatemi gli slot incantesimi qui li vado a impostare quanti slot incantesimi ho ho uno slot incantesimo fatto tra parentesi ogni volta che io inserirò un incantesimo in automatico si mette al livello appropriato country più trucchetti eccetera eccetera quindi ok lanciamolo adesso posso farlo perché ho messo il valore di primo livello quanti slot di primo livello ho va fatto per ogni livello chiaramente consuma lo slot certo cast slot eccolo qua con tutta la sua descrizione ai livelli più alti cosa fai eccetera other formula ci clicchiamo sopra un dado da 4 benissimo avete un bonus di più 3 alle vostre azioni con alle vostre azioni di attacco tiri salvezza tiri caratteristiche eccetera con l'incantesimo benedizione è fantastico dopodiché abbiamo la schermata effetti come potete vedere avendo io lanciato l'incantesimo benedizione c'è c'è è stato rilevato e come effetto eccolo qua sono benedetto ho praticamente il bonus qui in realtà ci vorrebbe un tutorial a parte per parlare degli effetti qua funziona nelle armi no ma nel nei personaggi funziona praticamente andiamo a creare delle modifiche all'interno della scheda come per esempio se io volessi creare l'effetto di ira barbarica io qua potrei metterci le mani e utilizzarlo però c'è bisogno di un di un tutorial a parte che io non sono in grado di farvi perché non sono così bravo a utilizzare questa particolare feature semplicemente perché bisogna saper utilizzare le macro e io non non sono così bravo ok per nulla anzi però non lo so se io cadessi in ira barbarica e ci fossero quindi degli effetti che mi vanno temporaneamente ad aumentare il tiro per colpire piuttosto che i punti ferite e via dicendo ecco con questo metodo e con un modulo anche tra l'altro sono cose che si possono fare tutto in automatico ultima parte abbiamo la biografia con i tratti della personalità gli ideali i difetti cosa sono i bonds non me lo ricordo comunque vabbè le robe che riguardano il background fondamentalmente e qua potete scrivervi note varie ed eventuali sulla biografia qui potete scrivervi note riguardo il vostro personaggio sull'avventura che state facendo e via dicendo è venuto fuori un video più lungo di quanto io pensassi ragazzi però come potete vedere non è così diversa la scheda del mostro o dei personaggi non giocanti è simile anche se mancano alcune cose le feature sono già ci sono già all'interno di feature come vedete ci sono gli oggetti e le abilità c'è tutto in un'unica schermata gli incantesimi dovrebbero essere qui se ci fossero eventuali effetti la biografia del del mostro eccetera eccetera quindi in realtà le differenze sono minime io come sempre spero che questo tutorial vi sia stato utile il prossimo tutorial andrà a trattare altre piccole diciamo features di questo programma quale per esempio l'utilizzo di questi pannelli li andremo a vedere un pochino tutti a parte quello della luce e delle pareti che abbiamo già che abbiamo già visto e delle schermate che abbiamo qua in alto andremo a vedere alcune di queste cose qui a che cosa servono ok come sempre io ragazzi vi auguro un buon proseguimento e state in campana alla prossima ciao ciao ciao